Ha terminato poco fa la doccia, mister Carnevale, perché a parte il caldo, ma queste sono care che fanno sudare, immagino. Ma sì, fanno sudare e alla fine ti fanno sudare di gioia, perché dicevo in settimana ai ragazzi che il calcio è strano, perché dopo aver macinato tanti tanti punti, eri dichiamato comunque a fare la partita della vita, una partita importante per fare ancora in modo di dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogna, la nostra permanenza in D. Quindi, piccolo rammarico, se lo vogliamo dire, è che volevamo vincere davanti ai nostri tifosi, però credo che i ragazzi hanno fatto l'ennesima partita perfetta, risultato che ci sono un po' stretto, ma ci interessa ben poco, l'importante era comunque sta benedetta salvezza, ma farlo in questa maniera ti dà molta, molta gratitudine. Mister, ho visto baci e abbracci col Presidente, è una sorta di contratto così, non firmato, virtuale? Marco, il Presidente c'è stato feeling dal primo giorno in cui sono stato chiamato, è normale che ci conoscevamo di persone, era normale che mi volesse conoscere anche sul mio operato, credo che entrambi, io ringrazio lui che mi ha dato questa possibilità di allenare in questa città bellissima, credo di averlo ripagato nel migliore dei modi, poi i matrimoni si fanno in due, ma credo che tra persone intelligenti basta un piccolo incontro. Mister, prima di lasciarla andare a festeggiare o continuare i festeggiamenti, mi dà un giudizio in generale su questo campionato? Ma ho detto più volte campionato, molto 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 bello, molto molto importante, e molto competitivo rispetto agli altri anni. Io se ti dovessi dire che ho incontrato una squadra materassa, non te la posso dire, lo stesso Matese e Vasto Girardi, campionato importante dove comunque il Termoli, al girone di ritorno. E la terza formazione del girone? Infatti, la possiamo ritenere una grande, diciamo che c'è stato un inizio un po' così, però ci riteniamo soddisfatti tutti dell'operata, partendo dalla società, a tutti i collaboratori, staff e tutti quelli che hanno contribuito a questa salvezza. Quindi mister Carnevale l'anno prossimo che fa? Ma diciamo che... Perché potrebbe sognare anche una grande, realmente parlando. Ma niente, io amo il mio lavoro, amo Termoli, sto bene col mio presidente, è normale che ci incontreremo, ma ti ripeto, da persone per bene, credo che sia possibile, credo che si potrà continuare questo discorso, cercando di far diventare in Termoli una squadra importante. Grazie mister, in bocca al lupo e buona estate a questo punto, perché l'ultima conta poco, insomma. Oggi di lì? No, conta poco, non tanto, ci teniamo a far bella figura, perché col Campobasso andiamo lì a giocarci la nostra gara, perché ci vogliamo divertire, vogliamo stupire ancora e cercare di fare tre punti anche a Campobasso.